Ciò che ho vissuto io, la netta sensazione di essermi riuscito a fermare prima e di aver fatto questo gesto, così all'indietro per non urtare l'avversario. Eravamo al forse quarto, quinto minuto di recupero, su una partita dove non mi sembra che siano entrati le barelle, l'ambulanza, invasioni di campo, cinque minuti di recupero. Una partita del genere sono già abbastanza sintomatici della conduzione di gara. Ripeto, per chi come me non è la prima partita è difficile parlare di una conduzione di gara così, perché mi dovrei porre delle domande che non voglio pormi. Il gol, il primo a Cesena, sinceramente sono contentissimo. L'avrei barattato con una vittoria, però adesso me lo riguarderò, ne faccio talmente pochi che me lo godo un pochettino. Sappiamo di aver fatto una bella partita, che probabilmente, quasi sicuramente, anzi meritavamo i tre punti. Forse c'è stato tolto qualcosa, però dobbiamo essere consapevoli della partita fatta. Adesso andiamo a Roma, prima di Carpi c'è un'altra partita, quindi pensiamo una alla volta senza farci abbattere. insomma.